bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo video io sono xyuder e ragazzi e beh tantissime novità anche oggi per quello che riguarda l'evento che accadrà fra due giorni anzi domani sera direttamente su fortnite sono successe delle cose nel pomeriggio di ieri abbiamo delle notizie ufficiali abbiamo anche delle cose scoperte dai leakers e quindi confermiamo finalmente al 100.000 per cento che l'evento non avrà nessun ritardo ma parleremo anche di una delle domande più importanti che ci stiamo facendo in queste ore ovvero sia il prezzo della ps5 forse qualcosa si è scoperto prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali anche al secondo canale e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news e ora andiamo un attimo nel primo argomento facciamo un pochettino chiaro ciò che è successo la prima immagine arriva direttamente dalla lobby di ognuno di noi nella sezione notizie troviamo finalmente il messaggio ufficiale che dice il dispositivo il 15 giugno alle 20 ora italiana guarda il piano di mida giungere a compimento all'agenzia lo spazio è limitato arriva 30 minuti in anticipo per trovare più facilmente il tuo posto qua si è creato un panico generale da parte della community mondiale di fortnite il discorso che lo spazio è limitato vuol dire questo vuol dire stai attento perché rischi che se arrivi all'ultimo e provi ad entrare nella ltm dedicata c'è la possibilità che non ti facciano accedere se fanno come hanno fatto per il concerto di travis tu entri nella ltm che praticamente non ha scadenza la storm si chiude si chiuderà molto probabilmente all'agenzia a un certo punto saranno disabilitate le armi quindi non potremo essere chillati e potremo invece goderci l'evento quindi non abbiate paura voi arrivate verso le 19 30 19 40 accedete e dovrebbe andare tutto bene quindi mi raccomando attenzione anche perché sarà sicuramente un grande grande evento e tra l'altro arriva anche finalmente con un bel po di ritardo aggiungerei il countdown in game sopra l'agenzia ce lo aspettavamo diverso di colore azzurro come in realtà avevamo visto hanno cambiato probabilmente all'ultimo il countdown classico viene colorato in questo momento di giallo con i bordi rossi quindi un altro chiaro segnale per tutti quelli che non seguono le news che qualcosa accadrà e che cavolo sarà e andiamo avanti ragazzi perché arriva anche il tweet direttamente nella pagina di epic games e dice the clock is ticking l'orologio sta ticchettando lui ha pronto il suo piano sta piazzando il suo piano potrà la tempesta essere rotta e qua si parla invece un pochettino più interessantemente di che cosa ha in mente mida come sappiamo lui ha creato la doomsday device il doomsday device quindi quella sfera gigante che ha il potere di controllare la tempesta e a quanto sembrerebbe lo scopo sarà quello di rompere la tempesta ci riuscirà non ce la fa e soprattutto se dovesse riuscire a rompere la tempesta vuol dire che ci saranno dei cambiamenti anche nelle varie fasi della tempesta durante la partita non lo sappiamo qualcosa in realtà sappiamo ma io ve l'ho detto non spoilerò nulla sull'evento non nei miei video news quindi se volete andate anzi non guardatelo così almeno non vi rovinate non guardate in gira non vi rovinate la sorpresa chissà chissà che cosa succederà io non vedo l'ora di vederlo e andiamo avanti perché poi quando succedono queste cose io mi emoziono mi emoziono mi emoziono sba il dona ragazzi il donato mostarda fa così la mossa violenta tipo che ti entra a gamba tesa al limite dell'aria va nuovamente a cambiare il suo è la sua immagine di copertina nella pagina twitter quando il donato mi comincia a cambiare le cose a me batte il cuore mi emoziono gli voglio bene gli voglio bene sono anni che lo tengo sotto controllo e gli voglio bene poi tra l'altro comincia anche a fare il bullo e quando il donato inizia a fare il bullo devi un attimo calmarlo perché vai sulla sua pagina twitter e mi twitta tic 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 donna adesso easy nel senso ok sei il direttore sei il capocciore adesso abbassa un attimo le ali non è che stai facendo chissà che cosa quindi calmo calmo anche lui conferma comunque riprendendo il post ufficiale di fortnite che tic 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 fa lo sbruffone quando fa così fa lo sbruffone te la fa te la fa desiderare e quindi comunque come vi dicevo è tutto confermato mentre invece che cosa è successo realmente ieri la prima cosa siamo nei file di gioco come vedete siamo nella cartella agency e nella sottocartella special quindi è stata modificata una stringa ed è stata anche decriptata e la stringa si chiama agency hatch water interaction 2 l'abbiamo già vista spesso e volentieri proprio prima dell'ultima patch che abbiamo appunto guardato insieme la stringa water interaction vuol dire le modifiche che subisce l'acqua intorno all'agenzia ed effettivamente una grande modifica c'è stata perché finalmente i boccaporti si sono aperti come vedete ragazzi avevamo già notato delle modifiche all'inizio una luce viola intorno ad ogni boccaporto si intravedeva poi hanno cominciato a muoversi le bolle e adesso finalmente sono aperti ho anche uno spezzone video per chi non li avesse ancora visti ed eccoli qua ragazzi siamo in game quindi il boccaporto totalmente aperto potrebbe stare a significare che bo recupera l'acqua oppure semplicemente la fa espellere non lo sappiamo perché un boccaporto aperto implica il fatto che entri anche dell'acqua sono tutti e cinque ovviamente completamente aperti e staremo a vedere quale sarà la loro funzione per quanto riguarda l'evento e chiudiamo ragazzi il video di oggi con una notizia davvero interessante si torna a parlare di ps5 tra l'altro per chi non lo sapesse l'evento della presentazione ufficiale della play 5 è stato seguito dicono da 7,2 milioni di persone contemporaneamente è stato veramente un successone per sony tante le novità abbiamo visto anche i nuovi giochi che verranno rilasciati ci sono stati tanti indie che hanno avuto anche la loro fetta di importanza ma la vera domanda che tutti ci poniamo è ma alla fine il prezzo della play 5 qual è sappiamo solamente che ce ne sono due di versioni quella da 800 giga e quella da 2 terabyte sembrerebbe che quella da 800 giga abbia anche il lettore quindi si potranno inserire appunto i dischi contenenti i giochi mentre quella da 2 terabyte no solamente uno spazio di archiviazione la notizia una delle notizie interessanti arriva direttamente da questo sito che io purtroppo non ho capito bene quale sia perché la foto l'ho trovata in mezzo alle mie ricerche e questo sito ha messo fuori a 700 dollari era già stato detto che sarebbe costata 700 dollari e lo avevamo visto su amazon prezzo subito tolto e smentita arrivata però per la seconda volta sembrerebbe essere ancora questo insomma ragazzi non sappiamo notizie ufficiali nessuno sulla data di uscita nessun prezzo io penso che non si allontanerà così tanto da quanto stiamo vedendo e quando saprò qualcosa ovviamente lo saprete anche voi insomma ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato anche oggi tutte le news di fortnite mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali lasciate un bel like e a me vi trovate proprio adesso in live su twitch ciao ciao